Bentornati a tutti in un nuovo video di Verone, oggi sono voi per portarvi secondo me la classe più in meta attualmente su Caldera diciamo sull'assalto c'è sempre la controparte dell'SDG che è la, diciamo, una delle armi più valide attualmente in gioco nonostante sia stata appena nerfata, è stata di nuovo nerfata ieri in ogni caso questa è l'XM4, l'XM4 sapete benissimo che è sempre la classe arma, non è cambiata di molto diciamo che ha un time to kill non bassissimo però ha un moltiplicatore dell'hatshot e del collo che la rendono spesso e volentieri più forte di tutti gli altri assalti perché se prendete al collo, se prendete in testa, ha dei moltiplicatori che gli abbassano ulteriormente il time to kill di brutto rispetto ad altri assalti quindi secondo me è la via più migliore attualmente su Caldera con il 60 colpi e perché? Perché l'SDG sì è non recoil, è più costante, per cui magari in certe situazioni è più forte anche perché ha il 6x oltre al 3x, il 6x comunque su Caldera funziona e funziona bene e vi lo consiglio sempre l'SDG cioè sono, diciamo, sono due alternative, giustamente ci sono più armi, questa secondo me è la migliore però comunque siamo lì, insomma, se usate l'SDG fate benissimo e come secondario invece sono andato ad utilizzare il H4 Blixen questa è la build di Biffle, che me l'ha fatta provare Zunks ieri su Rupert e squaglia in una maniera clamorosa con la canna 17, tra l'altro siete anche silenziati avete visibilità del fuoco per il nemico ridotta, quindi è come se fosse silenziata la canna, tra virgolette ovviamente il fuoco è quello classico, quindi il rumore sarà quello classico però non dovrebbero pingarvi i nemici in questa maniera e questo è il classico set, ovviamente l'imbugnatura a fettuccia per quanto riguarda Caldera, Resina Vegetale e magari per Rebirt è una build dove potete anche sparare un po' in hipfire ma comunque l'arma risulta essere molto molto veloce e molto molto mobile secondo me verrà nerfata perché è troppo forte e i 36 colpi non sono pochi cioè a me, io quando lo uso, non mi sembrano pochi sinceramente perché ha talmente tanto danno che nonostante ci siano sulla carta così poi i colpi ed avendo comunque questo rato di fuoco che non è altissimo non mi sembra che li mangi, che se li mangi mi sembra ottimo questi 36 colpi mi sembra che ci stiano molto bene quindi questa è la classe migliore secondo me per adesso per Caldera anche per Rebirt vi consiglierebbe questa classe cioè questa ci sta benissimo anche su Rebirt magari se mi vuoto ci metterei il 45 alzio del 60 un bacione davvero e godetevi al gameplay ciao a tutti ecco forse un'unica che mi piace è effettivamente il type shank ma no io spero che utilizzerai più spesso la censura in questa partita perché mi ha fatto molto divertire vedi ragazzo devi stare molto ehi ragazzo stai molto calmo colpo è stato l'ho caccato a tappare no è finita l'ultra velocità non è più divertente sono ultra veloce ah ho preso l'ultra velocità sono ultra veloce è mutato credo è Pietro smusi Pietro oh Pietro smusi non chiede pietro allora stai ah 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 questa è proprio una citazione che mi hai fatto in mente ah yeh van aiz mustacchio allora andiamo oh è in open eh non sono nel gulag non sono nel gulag sicuramente dei punkers no non sono nel gulag guarda l'ho effetto lì un po' oh c'è uno c'è il cecchino come stiamo dal cecchino nel bunker sotto nei bunker è andato chi è che ha le falle io 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 no 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 venito a me venito a me ho tracciante hanno preso hanno preso i hozi è andato di là entriamo è andato entriamo tutti Abbiamo avuto le palle, Piero. Bravo, bravo, bravo. Adesso che si fa? Dittato, 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 rotto, rotto, distrutto, cancellato. Dietro di noi, dietro di noi, dietro di noi. Close. Dai ragazzi, mi conferma però, pushatelo. Posso essere confermato da Carletto? Madonna. In due mkp se ne fa uno. Stare buono. Stare molto calmo. Eh, eh, eh. Cos'è una tartaruga che scopa questa? Tartaruga che scopa questa? Avevo bisogno di una... Minchia, ma qui non mi ha proprio pushato, perciò che merda. Non ho cazzo, non c'ho più... Nooo, non vedo nessuno, però pina mia. Non c'ho già... Ah, mi sparano! Ah, sono vivo, ah, sono morto, ah, sono vivo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, dove tu hai a preparare la salute? Sto prendendo il Lodi qua, eh, fattibile. Arrivo, arrivo anch'io, arrivo anch'io. Oh, via! Eh, c'è l'Hepic, però. Non sei umano, Pierre. Che cazzo devo fare io? Ma cazzo, chiamami. Sto prendendo il Lodi. Eh, top, più di bingartelo. Forse era l'altro, un altro. Non c'ho più colpi, cazzo. Braccato ancora? Una qua accanto a te, sinistra, sinistra, Pierre. Poi lo so che. Poi, qua, 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 qua. Tra di noi. Sono due. È sotto di me, eh? Sì. Colpo. Cotto. Altri, 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 altri. Tiro qua, tiro qua, tiro qua. Sì, sì, sono due lì. One shot. A terra. C'è un terzo? Può darsi? Qua sopra? Possibilissimo. C'è un terzo. Forse l'ho visto uno qua sopra. Ha non è restato, ha non è restato. Ha preso Balloon. Questo ce lo aseriamo. Lo aseriamo, lo aseriamo, dai. Tittate, 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 titta, 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 a terra. Ciao. Il Doro del Void è sempre presente. Levate il ping, levate il ping, via il ping, via il ping, via il ping. Viola? Ho risato, risato, risato. Ho preso l'out front me. Craccato uno. Skip l'altro. Craccato l'altro. Due crackati, eh? Uno è dietro questa cassa. Un ping, un ping. Ok. C'è l'altro sotto, uno c'è il cieco. Craccato, craccato full. Sono due, però, vabbè. Uno è sotto, sotto. Ovviamente uno è altopiano. E uno l'ho visto. Mi sono andato a mettere le piazze arrivo, anche io. Fatto. Però, come c'è l'altro? E uno l'ha distrutto, uno l'ha distrutto a mano. Fatto quello lì sotto te. Gis. Fate qua B. Hai tirato una DOS, qua. Fatto. Cozzi, oh. Raga, riuscite a fare un'avve. Ok, guarda. Di flank, eh? E ho sentito passi anch'io, lo sai? Hai sentito? Sì, sì, sì. No way, da destra, da te, da via, di sotto di te. A me? Il cazzo, sì, qui. Sì, qua, da qualche parte. Qua. Sì, da me. Bravo. C'è un altro dallo shop, allo shop. Visto, 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 one shot. Quattro. 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 sul tetto, eh, mi hanno andato un secondo. Non ho visto tanto a me, però. Fatto, veramente, tutti bastardi. Fatto uno. Fatto due volte, però. Fatto uno, mi spara. Sì, sì. Non li vedo, ok, bravi. Niente, non posso più andare. Mi hanno tirato. Chi ti ha tirato? Dove, 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 dove? Eh, a cin cinquanta, a cin cinquanta. Salto sopra, eh, se mi distrae un secondo. Nientro dentro. Arrivo, arrivo. Sono tre. Arrivo da voi, ragazzi. Merda, che lag. One shot uno. Non posso scendere se non mi laserano. Arrivi da sotto, arrivi da sotto. Brutto uno. Fatto uno. Atterra uno. Sistema. Da me, da me, fuori, fuori. Fuori. Un altro da me, un altro dietro. Dietro, dietro, dietro. Un po' cari te, Piero. Ape, ape, ape. Ape, 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 ape. Ho giusto di spado. Non lo ha fatto l'oglio. Rai, cazzo. Intanto uno. Serpentino. Attaccato uno. Un barramento da dentro. Vado al prossimo team, io. Ah, ha fatto una cazza. Oh, cazzo, raga, mi pushano. Mi pushano tutti, raga. Non l'ho lezzo, però. Ma dove cazzo sei, eh? Aiuto. Vabbè, non l'ho lezzo. Aiuto. Ah, è vero. Oh, l'ho visto. Ci bevo io. Vado a nuova via. Un po' che ti bombarde. No, ancora no. Muoio, muoio. Poi se li fa tutti. Vado, 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 vado. Arrivo, arrivo. È entrato in casa. Un punto, tira ad uno. Gli altri sono up. Oh, raga. Ti rovo uno, io. Tirolo, tirolo. Strapieno, wow. Ho paura per quelli a sinistra, fra. Eh, vaffanculo, allora. Con cazzo. Ha sparato del muro. Abbiamo una terra, eh. Un po' di più. Un po' di più. No. Questi altri up, per caso. Passiamo adesso, audio. Un'altra terra. Però non mi sale. Un'altra terra. Due terra. Quei sotto di noi vape. Io ho fatto i sottotitri. Forse ce ne sono altri. Ah, c'è stato uno. C'è stato uno sopra. Nicola, vieni qua. Viero, c'è un altro qua sopra. C'è uno qua. Ok, fatto. Ci sono altri qua dietro, viero. Dove, dove, dove? Questa casa. Si stanno bombardando e si stanno paetando. Abbiamo un altro vape, sfoglione. Vape, tiriamolo, eh. Per favore, perché qua siamo veramente nel caos più totale. Questo dia lo puoi da fare. Stato in casa. Questo sotto si fa. No. Preso? Non. Mi prendo quello dietro, bro. E' andato in crisi, poverino. Come si è messo, vape? Beh, è per lo tuo che sei rilassato, ma l'ho fatto. Ah, mi sei rilassato? Pezzettino di cacca. F***e, ci sono tre persone. No, vape, vape, vape. No, sono morto con un coglione. Cazzo. Alzi, ti alzo. Ce la fai? Sì. Lo tieni un attimo? Sì, sì, lo sto tenendo. Mi voglio far questi qua dietro, mi muovo, bro. Tattato. Odio, rai. Cazzo. Anche da dietro mi holdano, fuori segno. Arriva, fra. Ho due, wow. L'hanno pushato. Odio, odio, odio. Che sto vedendo? E cazzo devo far qua? In tre si è diventati da uno. Un po' troppo splittati nel game, se state bisognava un po' rimetterci insieme. Che non l'ho mai collato. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto bene la splittata. Magari ci si poteva riunire un po' prima. Perché non si sparano tra di loro? Era lo stesso team, questo. Era lo stesso team. No, non è lo stesso. Ma invece sì. Ma perché è andato a terra? 3-1-v3-v1, home. Ma perché è andato a terra? Che non è morto subito. Chi è? Non lo vedevo, non vedevo il più.